Musica Hello guys, Renderan here e benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Ah, finalmente riesco a registrare una puntata di Minecraft in un orario decente Purtroppo negli ultimi giorni sono stato davvero molto molto impegnato E come avete visto persino l'altro giorno ho registrato la puntata precedente alle... Boh, erano un pollo Erano un pollo, l'orario un pollo penso sia tipo molto 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 famoso Ah, prima di tutto, prima che scenda la notte mettiamo delle torce qui e lì Una un po' così Ok, perfetto Mi servirebbe una palla, una palla grazie Ah, è finita la cobblestone Interessante Molto, mucho mucho interessante E vorrei dire che ce la faremo con il legname Il legname, poi andremo a prendere la cobblestone La la lero La la lero Ok, sabbia Sabbia Perfetto Allora Stavo dicendo, finalmente riesco a registrare un orario decente Perché come avete visto l'altro giorno ho registrato persino alle due di notte Perché, guys, purtroppo quando ci siano... quando si hanno tanti tanti impegni Capita che delle volte tocchi... tocchi... sì, tocchi... tocchi... ah, ok, sì, mi sembra giusto come... come coniugazione verbale Eh, registrare, ecco... eh, anche a ora tarda E, ehm... come sapete com'è... oh, qua possiamo mettere le chest Interessante Oh, finalmente ci possiamo liberare Allora, liberare... mi raccomando la liberare così... no... ah, la rubber ha cambiato la skin Ottimo, ottimo direi Ottimo direi... oh, oh, basta, basta, basta che sennò poi non la finisco più Allora, mi serve uno di questi cartelli che avevo fatto in realtà in una precedente puntata per l'UX Ma lo facciamo, lo mettiamo qua Ci scriviamo... eh, casa di una renna No, casa di una renna qualunque Qualunque E non c'è entra il punto esclamativo, quindi... facciamo così Casa di una renna qualunque Ah, ah, sì, 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 ok, perfetto Ma sì, sì, molto, molto simpatico Oh my god, com'è simpatico Allora, finiamo sto cazzo di tetto Poi, visto che abbiamo un estremo bisogno Bisognandolo di, ehm... di minerali, materiali, eccetera, eccetera Io penso che qua dobbiamo andare a fare altra sabbia Nel mentre che quella si cuoce Ehm... dobbiamo sicuramente e certamente E mostruosamente andare in caverna Quindi per tutti coloro che stavano aspettando un mega episodio In una fucking caverna È arrivato Quindi tranquilli che... Allora, adesso non so quanto tempo ci metteremo a costruire il tutto Ma penso che per fine puntata Inizierò ad entrarmi in una caverna da questa parte O almeno la andiamo a cercare E... appena la trovo mi ci butto dentro E registriamo almeno un paio di puntate in caverna Perché ho un estremo bisogno di... di ferro Di... di bronzo Bronzo? No, al massimo copper Ehm... di... di copper Di tutta quella roba lì Un po' così... un po' su e un po' giù, no? Avete capito L'importante è che voi avete capito Poi non mi interessa Allora, prendiamoci questa roba qui Che è il nostro vetro Facciamo così La 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 Allora, ragazzi Oggi, devo dire Sto registrando oggi che è 20... qualcosa 20... 26... Sì! 26! Ok, mamma mia Sono riuscito a ricordarmi che giorno è oggi Ehm... Allora, sono andato al Comic Con Secondo giorno di Comic Con Mi sono divertito davvero un bel po' Ho incontrato altri... Altri due fan Altri due di voi che mi seguono Qua su YouTube E... sono stato molto molto contento Abbiamo fatto una foto Ehm... con entrambi Ehm... Ce l'ho... adesso le devo solamente scaricare sul computer Poi a fine Comic Con Ehm... sicuramente farò un bel video montaggio Di tutto quello che abbiamo fatto al Comic Con Insieme, guys Perché... Ehm... O cazzo, ho piazzato il vetro E te pareva Allora, e te pareva Mannaggia Cociamo, cuociamo, cuociamo Cuociamo la carne Allora, mettiamo a posto questa Andiamo a fare della legna Perché direi che la... Allora, un po' di terra ce la portiamo La sabbia la mettiamo a posto Questa la mettiamo a posto Questa la mettiamo a posto La carne ce la portiamo Bla 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 Questa la ci serve della legna Per fare degli sticks Sì, sì, sì Quindi direi di andare a cercare della legna Prima di tutto E poi ci andiamo ad addentrare Nell'addentrabile addentroso E... detto così Sembra brutto Sembra anche qualcosa di maledettamente sconcio Ma in realtà non lo è Perché andiamo in caverna Come ho già detto prima Ma non so proprio se avevo messo l'orologio Ma avevo controllato di sì E... quindi tranquilli Sentirete anche l'orologio Ma... cos'è? Quando è? Soprattutto... perché? Aha Owned by... Kev Riot Aha Aha Hello Kev Riot Via Ha fatto una casina provvisoria anche lui Lo salutiamo Vi ricordo Che ci sono i canali di tutte le persone Che sono qui con me nella serie In descrizione Quindi Luke La moglie Che serve Moon E... poi Spectre Kev Riot E basta Poi ci sono io Bene Ok, sono tutti E quindi mi raccomando Andate a seguire anche loro Perché Ehm... Come sapete È una... Una serie Multiplayer Single player Cioè nel senso Siamo tutti su un server Però ognuno si fa la propria strada Ecco Mettiamola così Quindi Ehm... Andate a seguire i loro punti di vista Perché sicuramente Ehm... Stanno... Stanno registrando Come sto registrando io E quindi Può essere interessante Per voi andare a vedere Cosa stanno facendo Ok Abbiamo preso un pochino di legna E adesso Torniamo a casa Ci... Uuh... Ciola Non mi sono messo il puntino a casa Allora Mi avete detto Che Ehm... Se non sei... Se non sei admin Del server Eh... Non puoi fare quel Mega bug On the way What the fuck Bli 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 blablabla Per Ehm... Te trasportarti su waypoint Sinceramente Non ho provato Ma da Se non sbaglio Avevo provato a farlo in single player E in single player Te lo fa fare Quindi sinceramente Visto che In single player Anche non usando i cheat Me lo fa fare A quel punto Lo uso anche sul server Scusate È una cosa utile È una cosa utile Quindi facciamo M Ehm... Waypoint Ehm... New waypoint Chiamiamola Home Proprio mamma mia Ma come... Come siamo Wow È quasi È quasi Tremendamente Non so Non so dirvi Cosa potrebbe essere È troppo Troppo poetico Troppo poetico Guys Troppo poetico Ok Abbiamo tutto Ci mangiamo un pollo Un pollo Ok Mettiamo questo a posto Ci facciamo un altro piccone di ferro Ehm... Piccone Di pietra Che non abbiamo Giustamente Quindi un cazzo Facciamoci un'altra crafting table Che ci portiamo E go Go Renna Go go Perfetto Ciao casa I love you I love you very much Anzi no Fermi Una cosa la dobbiamo prendere da casa Prendiamo questo carbone E questo carbone Perché direte voi Perché dobbiamo fare le torce Ehm... Le torce E le torce Se no poi mi dite Renna Nel video non si vede un cazzo di niente È bella brothers Io che ci devo fare Cioè Ehm... Ok Fermo Ma mi state dicendo che io E io ho una caverna sotto casa? Io Ho una caverna sotto casa Interessante Interessante Allora Vedete a cosa serve La terra che mi sono portato prima A fare questo Tra l'allero Allora Questo creepy Sul mio copper Che te pareva che non scoppiava Allora Non so se capita anche a voi bro Ma quando sono sul server Ogni cazzo Ogni cazzo E ripeto Ogni cazzo di creeper Che vedo Esplode in una maniera Schifosamente Epica Cioè non ho mai visto In un server Non esplodere Un creeper Non so se Non so neanche se i creeper Possano non esplodere Sui server Sinceramente Gli ho sempre fatto Vedere Gli ho sempre vedere Gli ho sempre visti Fare Boom Tipo Esplosione nucleare No? Avete presente? Fantastico Esplosione nucleare Dovremmo farla Un'esplosione nucleare Sul server Che sa Forse a fine serie Terrò una publa nucleare A posto Nella mia cesta Aia Dannato cristallo Allora Ci abbiamo uno zombie dietro Che è molto gentile Ci ricorda che è proprio lì Allora Visto che a noi ci piace Vincere facile Ehm Ehm Aia Allora Ehm Io vi voglio molto bene Ok Il creep è andato A te ti voglio un po' meno bene Del creep Perché il creep esplode E mi fa male Tu in realtà no Quindi Quindi puoi anche Sì Ok Fermi Torce Torce Ecco Fermi Fermi Allora Mi sa Mi sa che c'è un bastion Da queste parti Un Si si chiamano bastion Ragazzi Si si dovrebbero Quello per lente Con la portata Quella Quello Quello con la portata Per land Cos'è la portata Per land Io non lo so Certe volte Il mio italiano Mi stupisce In uno di quei modi Quasi fantastici No Una di quelle Che portano ecco Che c'hanno il portale Del land Ehm Vediamo Vediamo un attimo Perché se è così Può essere molto molto interessante Ci segniamo sicuramente Ok 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 guys Mi sa che sono stato un po' sculato Un po' tanto Un po' troveri match Proprio No fragment Book Paper Ok Eh bro Io devo andare Io devo andare Allora Qua è suonato il tempo Bros Allora Rifugiamoci qua dentro Mi chiudo dentro con la Con la terra Ci vediamo In un prossimo episodio In cui Beh sì Avevo detto che andavo in caverna Ma abbiamo trovato un dungeon Vediamo di esplorarlo Almeno un po' Ci vediamo in un prossimo episodio Qua dentro Intanto informo anche gli altri Sul server Che ho trovato un dungeon Enjoy E che le renesse con voi Bye bye Bye